Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video abbiamo appena finito di registrare il video della lama magari se ve lo siete persi date un'occhiata al nostro canale youtube e ve lo mettiamo qui in alto ma visto che il setup ce lo permette ed è l'occasione perfetta vi parliamo anche di quest'altro interessante strumento parliamo della pistola vortice della idrobase tra l'altro in questo fighissimo setup nero opaco ma in una versione speciale questa viene chiamata gold oro di cosa parliamo di uno strumento che è direi quasi immancabile in mano a qualsiasi appassionato e di taylor uno strumento che ci permette di avere veramente un'arma in più ed è una delle prime cose da acquistare dopo un aspirapolvere perché perché l'aspirapolvere potete potete comprarlo potente quanto volete ma arriverà arriverete sempre a quel momento in cui la forza aspirante non è più sufficiente è necessario smuovere la polvere smuovere lo sporco spostarlo da un punto irraggiungibile fino ad arrivare a un punto visibile dove la vostra aspirapolvere potrà raccoglierlo e per questo sebbene esistono delle spazzole uno strumento ad aria compressa vi fa fare un salto di qualità incredibile ed è per questo che le pistole chiamate in gergo tornador effetto tornado sono così utilizzate così vendute e danno un successo così grande in particolare vi dicevo questa pistola è originale sotto vari punti di vista punto di vista estetico perché l'impugnatura è veramente piacevole abbiamo un materiale che ha una finitura opaca quindi il grip è ottimo abbiamo un corpo in alluminio credo dorato e da qui il nome gold ma la particolarità è che questa pistola gira su cuscinetti quindi non abbiamo la classica cannula in silicone che ruota e crea questo effetto tornado ma abbiamo veramente un sistema che a livello teorico è praticamente indistruttibile quindi andiamo un attimino a smontare il cono vi faccio vedere come è fatto la cannula non è più in silicone come vi dicevo prima ma è rigida anch'essa dorata molto carina e ruota su cuscinetti quindi la cannula non va a sbattere da nessuna parte e quindi non si può rompere qui abbiamo un cuscinetto ad alta rotazione qui abbiamo una pistola che fa 9000 giri al minuto quindi molto molto prestazionale la cannula non toccando il cono vedete che adesso lo rimonto c'è spazio gira liberamente non va neanche a rovinare il cono quindi questa pistola praticamente una pistola a zero manutenzione se non nella mia correttezza ve lo dico una pulizia costante della zona cuscinetto è assolutamente fondamentale perché l'unica cosa che vi può succedere su una pistola di questo tipo è l'usura precoce del cuscinetto quindi se riuscite a causa di un uso veramente balordo di questo strumento si sporca il cuscinetto si grippa e quindi la pistola si blocca poco male un cuscinetto commerciale che si trova adesso andiamo a vedere come si utilizza la pistola e perché è davvero fondamentale averla se vogliamo arrivare a un buon livello di pulizia la pistola tornador non deve essere vista come uno strumento che soffia aria e basta ma come uno strumento che agita quindi parte dell'aria che parte e va via scusate il gioco di parole torna indietro quindi abbiamo sempre un effetto di agitazione ed è il motivo per cui questa è nettamente superiore a qualsiasi pistola che spara e basta ok diciamo è corretto e onesto e etico dire che da un punto di vista prestazionale di sbattimento questa pistola è un po' meno prestazionale della vecchia versione col silicone quindi dipende da voi che cosa volete questo è uno strumento che ti dà più aria e ne chiede meno gliene torna indietro meno quindi in virtù delle dimensioni ridotte e comunque della grandissima capacità di spostare aria da parte di questo strumento è sicuramente un qualcosa da avere adesso lo colleghiamo al tubo dell'aria vi faccio vedere in quale circostanze è così utile ci siamo ragazzi la prima cosa che dovete capire è che questo è uno strumento devastante solo quando lo comprerete lo vedrete sulle vostre mani e vi sparate questo gesto vi renderete conto che crea questo effetto di sbattimento e questo veramente fa la differenza nella pulizia tra l'altro diciamo che il regime massimo di rotazione si raggiunge dopo 3-4 secondi chissà se lo sentite così siamo al massimo stiamo lavorando a circa 7 bar questa pistola ha un range di rotazione molto ampio quindi anche se volete utilizzarlo da un punto di vista privato e volete abbassare la pressione in uscita del vostro compressore per consumare meno aria e quindi sfruttare lo strumento per più tempo prima che il motore ricominci a caricare è assolutamente un'ottima soluzione dicevamo questo strumento va utilizzato contestualmente ad un utilizzo con l'aspirapolvere quindi lui ti sposta la polvere te la sposta in un punto dove la puoi raccogliere e quindi tu poi dopo l'aspiri con l'aspirapolvere prendiamo per esempio una zona classica anzi alcune zone classiche dove una pistola del genere è così efficace qui abbiamo la zona di fianco al sedile quindi possiamo magari fare una certa fatica nel raggiungere questa zona o magari i peli della moquette si configurano in maniera tale da trattenere lo sporco e quindi abbiamo dei problemi per raggiungere un buon livello di pulizia ed ecco che la pistola riesce a fare questo bellissimo lavoro abbiamo un livello di pulizia direi 100% ma guardiamo anche all'interno della quartiera stessa come potete vedere è presente della polvere e anche in questo caso la pistola con l'ausilio dell'aspirapolvere riesce a farci raggiungere un notevole risultato ovviamente questa pistola è utile in tanti altri punti posso soffiare una portiera perché ci sono delle zone dove magari con l'aspirapolvere non arrivo zona degli alzavetro già una soffiata di questo tipo e poi una passata con l'aspirapolvere magari con la punta a spazzola riesce a darci un ulteriore livello di qualità possiamo fare la stessa cosa sui sedili in tessuto ci mettiamo ad una certa distanza e soffiiamo non so se è possibile vederlo ma anche dai tessuti è venuta fuori tantissima polvere polvere che ovviamente con l'aspirapolvere non viene via quindi è uno strumento assolutamente da avere e ripeto per l'ennesima volta questo tipo di pistola abbinato ad un aspirapolvere quindi farli lavorare o contemporaneamente o uno dietro l'altro quindi aspiro soffio aspiro soffio aspiro soffio riesco a togliere il grosso dello sporco solido e nel caso dei detailing avanzati quindi quando andrò a lavare per esempio un sedile quindi quando avrò la necessità di utilizzare del detergente dell'acqua togliendo il grosso dello sporco secco riesco ad aumentare ulteriormente il livello di pulizia quando andrò ad utilizzare la mia lavata pezzeria perché mi troverò davanti a molto meno sporco di prima e il risultato sarà ovviamente superiore bene ragazzi penso di avervi detto tutto riguardo queste queste pistole ovviamente trovate questi strumenti nel nostro shop solo dettagli.it non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale se vi piacciono questi contenuti così da rimanere sempre aggiornati grazie della visione e arrivederci al prossimo video